Penso sia importante poter mostrare i diversi modi in cui artisti di vari paesi esprimono la loro interpretazione del Cristo e del suo messaggio. La mostra inaugurata questa sera è centrata sul modo interpretativo della pittura polacca e ne riassume in modo esemplare sicuramente alcuni dei maggiori interpreti. E questo tipo di felicità che abbiamo ricevuto nella galleria mi convincere che tutto questo progetto è valutato a fare, sono molto felice. I hope that the new pictures of Jesus show us the new inspiration in our culture, especially culture who have show the people mercy of God and the ideas of our Christian culture. And to bring some of that into the modern culture with that modern slant, it's very inspiring and it's very beautiful and it's an absolute privilege and honour to be able to witness that first hand. It's so important for us to be able to rediscover this dimension of our liturgy. Grazie a tutti. Grazie a tutti.